coach barbiere arriva una sconfitta interna per il volle soverato 1 3 con marignano a dispetto di un buon inizio di partita il primo set vinto addirittura 25 9 poi cos'è successo ma si primo set forse l'abbiamo vinto fin troppo facile ecco questo qua dopodiché sicuramente non siamo andati bene con la battuta perché abbiamo fatto 12 errori e 5 ace lui hanno fatto 7 errori e 8 ace perciò ci sono stati nettamente superiori in questi due fondamentali cioè in questo momento stiamo veramente faticando sulla battuta battuta recezione sono un po il nostro cioè la nostra battuta e la nostra recezione sono un po deficitari ecco rispetto a quello a quello degli altri e soprattutto anche nei momenti decisivi abbiamo commesso due errori sul set ball ma errori proprio un po tecnici però questo fa parte del gioco fino a un paio di settimane fa avevamo grande fiducia in questi fondamentali oggi l'abbiamo un po persa la dobbiamo ritrovare sia sotto l'aspetto tecnico che sotto l'aspetto mentale per il resto siamo ancora anche oggi stati in partita perché abbiamo avuto i set ball per passare 2 a 1 però in altri momenti li abbiamo sfruttati in questi momenti abbiamo commesso un paio di errori pensiamo alla prossima ecco l'impressione che si è avuta dall'esterno dopo il terzo set perso al photo finish che forse la squadra nel quarto abbia giocato con il morale un po sotto i tacchi sembrava rispetto ai presenti parziali tra virgolette un po più spenta sì sì concordo è stato un finale di st abbiamo avuto 3 se il ball abbiamo avuto la pipe della greche che uscita di di un nulla siamo stati tanti momenti essere lì per vincere quel set e dopo non siamo riusciti a rassettare la testa e cambiare e cambiare l'esito dell'incontro ecco questo non è un buon segnale però ripeto fa parte del gioco e vediamo un po di di crescere come ho detto altre volte noi manca un po l'esperienza ci manca l'esperienza alcuni giocatrici in questo campionato e in certi momenti si vede ecco forse un pochettino più di esperienza avremmo gestito alcune cose con più serenità più tranquillità un ritorno dolce a soverato per coach stefano saia il suo marignano vince 3 a 1 conquista l'intera posta in palio e aggancia il soverato in classifica quindi diciamo che meglio così probabilmente non poteva andare ma tornerà soverato per me è sempre un piacere al di là del risultato se poi riusciamo a esprimere il gioco che abbiamo espresso per tre set perché il primo set non siamo scesi in campo c'è solo da essere soddisfatti io continuo a dire che noi giochiamo una partita per volta abbiamo una squadra che deve pensare a domani e non a cosa succede tra 15 giorni o tra un mese noi dobbiamo pensare a lavorare tanto in palestra oggi mi è piaciuto l'intensità che i ragazzi hanno messo in difesa la lucidità con cui ho ingestito le fasi importanti della partita e direi che abbiamo fatto un altro passo avanti nel nostro percorso poi la classifica la guardiamo alla fine noi in questo momento non abbiamo un grosso patema un grosso problema ad essere in alto in basso in classifica ci importa come giochiamo un marignano che ha perso malissimo direi il primo set però poi ha dimostrato una grande reazione anche dal punto di vista di squadra perché ribaltare un risultato a soverato su un campo difficile come quello di soverato non è mai facile ma la squadra ci ha creduto ma noi nel primo set abbiamo confuso il rispetto dell'avversario con il timore dell'avversario noi dobbiamo rispettare ogni avversario soverato è una squadra che ha un potenziale d'attacco veramente notevole e noi dobbiamo rispettarlo invece siamo intimoriti di fronte a questo attacco nel secondo set abbiamo ritrovato un po' più di lucidità abbiamo ritrovato i nostri colpi in attacco la nostra intensità in difesa e abbiamo fatto un po' più del nostro gioco e questo probabilmente ci ha dato il via per riuscire poi a giocare i tre set successivi un mix di giovani e qualche elemento esperto in questa squadra che comunque in questo girone d'andata sta dando grandi soddisfazioni alla società e a tutto l'ambiente sì noi abbiamo cercato di allestire una squadra che avesse un'idea di gioco un'idea di gioco da sviluppare in settimana durante gli allenamenti e poi da riproporre durante il campionato noi siamo una squadra che se vuole vincere deve giocare tutti insieme l'avete visto non abbiamo giocatori che possono ribaltare le sorti di un set o di una partita da soli se noi giochiamo da squadra come ci alleniamo allora qualche risultato e qualche soddisfazione ce la togliamo altrimenti vincono gli altri infine inevitabile anche una domanda e un giudizio su questo soverato che lei sicuramente avrà studiato perfettamente in settimana è stata una partita come se l'attendeva oppure c'è stata qualche variazione tecnica o tattica che non magari non si aspettava nel corso del match ma devo dire che tutto sommato è stata un po' non la partita che mi aspettavo ma il soverato che mi aspettavo come uscite d'attacco come tipologia di distribuzione in realtà io penso che soverato abbia un potenziale d'attacco veramente micidiale che poche squadre in questo girone di a2 possono possono eguagliare o superare noi abbiamo cercato di arginare questo attacco prorompente cercando di lavorare sui punti deboli che ormai sono abbastanza conosciuti e che poi ognuno di noi ha e credo che in questo campionato con così tante partite chi riesce a esaltare i punti deboli dell'avversario e a mascherare i propri riesce a ottenere qualche punto in più quindi io credo che soverato in questo momento abbia raccolto fin troppo poco rispetto a quelle che sono le sue possibilità le sue potenzialità e quindi mi immagino un proseguo di campionato in crescendo